Il nostro eroe della giustizia è qui per liberare il mondo dalle vostre brutte facce! Andiamo! Dai! Ehi, ora, mi piace la tua passione, ma non esagerare. Un eroe dovrebbe parlare in modo più elegante. Credo che dovrò mostrare a voi, ragazzi, come si presenta un vero eroe. Oh, dai! Non ne ho bisogno! Se devo essere un eroe, voglio che la gente pensi che sia figo! Non voglio essere come il grande uomo marinaio. L'eroe deve essere figo! Tic-tin-weee! Aspetta un secondo. Non pensare che lo lascerò passare. Il grande Saiyama non è stupido! Mi dispiace! Va bene, purché ammetti di aver sbagliato. Va bene, basta chiacchiere. È ora di punire il male come un eroe. Pensi veramente che sembri cool?